Salve a tutti razzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale, terzo video sempre uguale, sempre sul giveaway che è durato tantissimo e spero, se mai ne farò un altro, di cambiare le regole perché così è troppo troppo lungo. Sta di fatto che non ho ricevuto nessun segnale di fumo dal vincitore di stagioni, quindi come avevo promesso oggi andiamo a vedere l'estrazione, spero sia l'ultima, del DLC, ovvero dell'espansione stagioni. Prima di farlo ragazzi ci tengo a dire una cosa e anche a portarvi l'esempio del vincitore del DLC, io ovviamente su Instagram ho chiesto a lui di mostrarmi una prova, uno screen che mi facesse capire che fosse lui il padrone del canale che ha vinto, per farlo lui mi ha mandato un piccolo screen dove si vedeva solo il suo nome, io non vi chiedo dati personali, mail, quindi state tranquilli. Per il vincitore chiedo o su Instagram o sulla mail un piccolo screen che attesti che è lui il proprietario del canale che ha vinto, solo quello ragazzi, quindi io non vi chiedo dati personali e niente, ma voglio che sia corretto come sapete. Quindi in realtà possiamo cominciare e ripartiamo da 196, il minimo è 1, il massimo è 196, sperando di essere molto molto più veloci e molto molto più fortunati vediamo un attimo che succede. Facciamo generate 5 volte, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e anche stavolta esce il numero 81 per quanto riguarda stagioni. E la vincitrice è Francesca Agnani, partecipo a stagioni, continua così molto bene, ha anche messo il mi piace a stagioni, quindi vediamo un attimo. E guardate un po' ragazzi, lei è iscritta al canale, quindi in realtà abbiamo la papabile vincitrice. Quindi ragazzi sì, abbiamo la vincitrice, Francesca Agnani ha vinto stagioni, come sempre troverai il link qua nel video, ovvero il mio proprio Instagram oppure la mail. Ci sentiremo, mi darai appunto conferma che sei te, per favore fatti sentire, fatti vedere perché come ho detto l'altra volta altrimenti siamo un punto a capo. E a quel punto ti darò il codice digitale di The Sims 4 stagioni per PC ragazzi. Come sapete i DLC e anche il giveaway era incentrato su The Sims 4 per PC. Detto ciò ragazzi, stavolta è stato molto molto più semplice, abbiamo trovato subito una vincitrice, faccio i complimenti a lei, faccio i complimenti a tutti ragazzi, vi ringrazio ancora una volta per aver partecipato, per aver commentato e spero che questo sia il primo di una lunga serie di giveaway, magari in futuro ne farò altri. Detto ciò io aspetto la risposta di Francesca e vi dico che per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto e se così vi invita a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do l'appunto dentro alla prossima e vi dico ciao a tutti! Grazie!